...con la reaction di Nicolas Goldoni, il duetto più originale verrà condiviso sulla brutta gente Vai Ciao, ehi Dica Ciao, sono te Chi sei? Sono te, sono Nicolas Goldoni Non ti conosco Guarda, sono te stesso, quindi è impossibile che... Non ti conosco È impossibile, perché sono te stesso Cioè, ti devo conoscere per forza? Sì, perché sono te stesso Che lo voglio Vabbè, vuoi una caramella? Cosa mi vuoi dare? Una caramella alla fragola, molto... Ma cosa? Ma cos... Ma che schifo! Ma mettilo via! Ma è una caramella! Ma te lo tieni bene, non ci pensare proprio Va bene, va bene, va bene, ma... Ecco, guarda, mi fai anche... Ma fai quello che vuoi! Ma sì, la mangerò io, non so cosa dirti Cioè, non posso mangiare una caramella! Cioè... Ma... Ma cosa stai facendo? Ma che problemi... Ma che problemi... C'è una caramella! Mibinare una caramella... Ma che!